Suicidio di un 37enne pesarese si butta sotto un treno a Riccione, ancora ignoti i motivi del gesto. La fiera di San Nicola raccontata dai pesaresi in attesa dell'edizione del 2024 tra polemiche e ricordi. Opera maestra e stella polare, la commissione si è riunita, Perugini dice basta strumentalizzazione. Un mare da mare, l'iniziativa di legambiente che ha raccolto oltre 40 sacchi di rifiuti dal mare del San Bartolo. VL ultimo giorno di ritiro in Carpegna, da domani gli allenamenti al Palamegabox di Campanara. Ben ritrovati cari telespettatori di Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale di oggi, lunedì 26 agosto che apriamo purtroppo con una triste notizia, la notizia del suicidio di un pesarese di 37 anni che nella giornata di ieri intorno alle 14 ha deciso di togliersi la vita presso la stazione di Riccione, scendendo nei binari al momento dell'arrivo di un Frecciarossa. Ancora ignote le motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere un simile gesto, sembrerebbe che il ragazzo fosse seguito dal Dipartimento Psichiatrico di Pesaro e che già in passato avesse manifestato simile intenzioni, senza però mai spingersi a tanto. Cercheremo di darvi nuovi aggiornamenti nel telegiornale di domani. Da Riccione ci spostiamo adesso a Pesaro dove la polizia è riuscita a sventare il furto di una moto di grossa cilindrata che ha portato all'arresto di tre giovani cittadini italiani dell'età di 18, 23 e 24 anni, già pregiudicati e residenti fuori provincia per il reato di furto aggravato di un motoveicolo. Il tutto grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato dei movimenti sospetti ed ha dunque allertato le forze dell'ordine e scattato anche delle foto che ritraevano il furto in azione. Inoltre, in seguito alle perquisizioni e agli accertamenti dal cellulare di uno dei tre ragazzi, sono emerse foto che riguardavano altri motoveicoli che avevano nascosto precedentemente e per i quali alcuni proprietari avevano già sporto denuncia. Si avvicina uno degli eventi più attesi e iconici dell'anno per i pesaresi, ovvero la Fiera di San Nicola, che quest'anno ha fatto subito parlare di sé ancora prima di iniziare. Tra le polemiche sui social riguardanti la locandina per l'evento, i giorni in cui si terrà la manifestazione, ovvero il 10, 11, 12 settembre, che non vedono quindi nessun weekend nel mezzo e chi invece, parlando della fiera, torna a bambino e ricorda di quando quest'ultima si svolgeva nel centro storico, anziché tra la palla e il viale. Abbiamo così raccolto alcune voci che commentano la fiera in programma per questo 2024, ma che soprattutto ci riportano indietro alle fiere del passato. La fiera ha sempre attirato gente, gente verrà anche se rimandato, eccetera, eccetera, di cui la curiosità è quella che conta. Mi auguro come tutte le altre volte essere stata simpatica, ben messa, anche come coreografia. La città non è che ne soffre tanto, perché, oh Dio, la gente ci sarà sempre la sera, quelli che lavorano, per carità, la sera vengono. Però, diciamo, anche avere una festività nel mezzo, tipo fine settimana, così, sarebbe ancora meglio. Dipende dal comune, da tante cose. Io adesso non sono un po' afferrato dentro su queste cose, però mi piacerebbe più anche un weekend che tutta la settimana senza festa. Qui nella zona della palla ci sono tutte le cipolle intorno, è vero? E' contro i vampiri praticamente, all'aglio, cipolla, un po' di tutto, via. Prima, vabbè, adesso abbiamo coperto la palla di pomodoro, ormai è una vita che la conoscono, adesso anche la cipolla lì per una volta non fa male, dai. Queste vie qui le facevano, quando noi eravamo ragazzini, ed era solo per i bambini, c'erano solo giocattoli, le pistole acqua, i fucilini. Sì, c'era la piazza del popolo e la via, il corso 11 settembre, la fiera si faceva lì tutti gli anni. A volte lì era la via dei negozi, c'erano tutti i negozi alimentari, qui invece c'erano le stoffe, i calzoni, quella roba lì. Però la maggior parte erano giocattoli, era per i bambini, noi lo aspettavamo perché si comprava la pistola acqua, poi si faceva la battaglia, adesso tutto abbigliamento, tutto, diciamo, tutti per carità, è bello. E si parla tanto anche di Opera Maestra e Stella Polare, queste due associazioni che sono finite nel mirino della Commissione Controllo e Garanzia di Pesaro e che, atto operato, sta facendo chiarezza su questa vicenda. Tuttavia dalla maggioranza si chiede di non strumentalizzare la questione per fini politici. Opera Maestra e Stella Polare continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica e non solo. La Commissione Controllo e Garanzia, infatti, si è riunita e si riunirà a breve per continuare l'analisi degli atti, sentire dirigenti e persone coinvolte. Tuttavia, se da un lato il centro-destra chiede chiarezza, dall'altro il centro-sinistra chiede che controlli e verifiche non siano oggetto continuo di strumentalizzazione politica. Chiarezza bisogna farla, è doveroso farla nei confronti dei cittadini e abbiamo scelto di farlo con una Commissione Controllo e Garanzia come l'avremmo potuto fare tranquillamente con una Commissione d'inchiesta ma era già stata istituita una Commissione Controllo e Garanzia. Commissione che dovrà stabilire l'attinenza, la coerenza tra gli atti di indirizzo politico e gli atti amministrativi. Questa Commissione ha costruito con il Presidente Lanzi e sul mio suggerimento come Vicepresidente un programma dei lavori con cui fare audizioni dei dirigenti, fare audizioni degli assessori e studiare insieme gli atti. Ogni volta puntualmente sulla stampa si va a riportare una parte degli argomenti trattati come sta facendo in questo momento il centrodestra. È un comportamento irresponsabile e soprattutto non rispettoso nei confronti dei cittadini che dovranno avere chiarezza. In questo momento non abbiamo bisogno di nuove strumentalizzazioni, di nuovo sensazionalismo ma di chiarezza. Abbiamo ascoltato i primi dirigenti ed è stato molto chiaro che si rispetta la legge, se si continua a rispettare la legge, dobbiamo capire se effettivamente le volontà politiche sono attinenti a quello che poi gli atti hanno riportato ma di pari passo stando andando avanti questo lavoro non capiamo perché si continua ad avere questo tipo di atteggiamento. Noi pensiamo che sia un atteggiamento irresponsabile quello di non volere chiarezza ma tanto utilizzare la Commissione come un palcoscenico e non come un luogo deputato a fare chiarezza appunto sul tema. La Commissione continuerà ad affrontare atto per atto, comunque dirigente per dirigente un po' tutte le questioni emerse sulla stampa. L'obiettivo non è avere un'agenda rispetto a quanto è emerso sulla stampa locale ma costruirsi un'agenda per chiarire effettivamente il funzionamento della macchina amministrativa rispetto ad alcuni fatti accaduti. Non abbiamo ragione di credere che ci siano stati problemi particolari dal punto di vista della gestione amministrativa, gli eventi sono stati organizzati oltre che saldati, vogliamo capire come e perché sono state scelte alcuni soggetti per poter gestire questa associazione e se potevano farlo al momento sembra del tutto normale che si possano e si continuino a affidare alcune risorse sotto i 140 mila euro. Tra l'altro sono risorse che sono state impiegate e date grazie a delle riforme fatte dai governi centrali sia di centro-destra che di centro-sinistra per cui è possibile non solo per gli eventi ma per tutta una serie di attività e affidamenti conferire fino a 140 mila euro di affidamenti diretti per organizzare cose, comprare beni o servizi. Parlando sempre di contributi pubblici ma spostandoci verso i comuni dell'ambito territoriale e sociale numero 6 ci sono buone notizie per i cittadini di Fano, Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche che hanno un'isee non superiore a 10 mila euro. Possono infatti fino alle ore 12 di mercoledì 24 settembre presentare domanda per ottenere i contributi a favore della famiglia previsti dalla legge regionale numero 30 del 1998. L'istanza va presentata online e la montare del contributo sarà pari a 500 euro nel caso di madri sole, single, in stato di gravidanza e 500 euro per ciascun figlio fiscalmente a carico sino al massimo di 1500 euro nel caso di madri di figli riconosciuti da un solo genitori. E adesso torniamo a Pesaro più precisamente nel cuore del centro storico per parlare del suo polmone verde ovvero dei giardini Ritz Ortolani per i quali sono finalmente arrivati dei fondi e che ben presto renderanno i giardini di nuovo fruibili dai cittadini. Vediamo. Il cuore verde del centro storico, un luogo di eventi, di musica ma anche di semplice relax che purtroppo manca da tempo ormai alla città pesarese. Ora quella location sta per rivivere. Sono infatti arrivati i fondi necessari per la rigenerazione dei giardini Ritz Ortolani che dunque si preparano a vivere una nuova vita ma sempre da protagonista in verde del centro cittadino. Un piccolo cuore verde all'interno del centro storico di Pesaro. I giardini Ritz Ortolani sono quel collegamento tra il conservatorio e tra Polazzorici tra l'altro due contenitori importanti proprio del centro storico della città su cui sono in corso due importanti interventi di rigenerazione urbana. In questi giorni è arrivato il finanziamento ITI da parte della regione Marche per investire sul recupero di quella parte sui giardini Ritz Ortolani. L'idea è quella di andare a recuperare questo verde e quindi andare a recuperare anche quelle che sono le scienze originarie di quel luogo e al tempo stesso realizzare anche un piccolo spazio scoperto per piccoli concerti, piccoli eventi, un luogo che possa dialogare bene con quella che è la città della musica che abbiamo proprio l'intorno. Come dicevo il conservatorio e lo stesso il campus della musica che avverrà con il recupero e la riqualificazione di Palazzorici. Si tratta di uno dei tre interventi finanziati con il bando ITI della regione Marche, i giardini di Ritz Ortolani appunto, i giardini degli Ortigiuli e infine anche che verranno recuperati anche quelli con un intervento, un investimento di oltre un milione di euro e infine i locali dell'ex cinema di Via Venturini. L'idea è quella di recuperare quell'immobile per dargli una destinazione anche laboratoriale dedicata alla valorizzazione dei prodotti anche enogastronomici locali e quindi di far ripensare quel luogo anche valorizzando la cultura enogastronomica della nostra città. Dal verde del centro storico passiamo al mare del San Bartolo dove Legambiente è stata protagonista di una bellissima iniziativa che ha rimosso oltre 40 sacchi di rifiuti dalle acque della costa pesarese. Noi domenica abbiamo fatto la prima iniziativa di Legambiente relativa al programma che poi si svilupperà nel mese di settembre di Puliamo il mondo, una campagna nazionale che ogni anno si ripete. Questa volta abbiamo collaborato con l'area marina di San Bartolo e quindi insieme abbiamo deciso di pulire una parte della spiaggia sotto il Monte San Bartolo, sotto la croce praticamente, quella che viene definita così, perché sono zone molto sporche dove appunto è difficile arrivarci, tant'è vero che noi abbiamo dovuto prendere delle barche, precisamente quattro barche, e con quelle e con 30 volontari ci siamo appunto avvicinati a questa zona e l'abbiamo pulita. Ci abbiamo messo parecchie ore perché naturalmente la zona era molto sporca, c'era di tutto, in particolare come ormai si sa la plastica è quella che come rifiuto la fa da padrona e quindi abbiamo raccolto tutti questi rifiuti e li abbiamo portati a terra. Poi Marche Multiservizi naturalmente ha provveduto a raccoglierli qua in Baia Flaminia perché abbiamo fatto un punto di raccolta e quindi ecco questa è stata l'iniziativa che ha coinvolto tutte queste persone. Poi ieri sera verso le 6, 6 e mezzo, finito il lavoro, ci siamo ritrovati qui in Baia Flaminia e abbiamo un pochino valutato appunto l'iniziativa che secondo noi è stata molto buona. Purtroppo abbiamo raccolto tanti rifiuti e questo non è una buona cosa perché ci fa capire che ancora non c'è veramente un senso civico come ci dovrebbe essere e un rispetto per l'ambiente appunto come sarebbe auspicabile. Abbiamo raccolto tantissime nasse che poi fortunatamente in parte sono state venute a ritirare dai pescatori che le riusano ma fortunatamente diciamo non sono diventati rifiuti perché le riutilizzano quindi una cinquantina di queste nasse le hanno riprese loro e le riutilizzeranno. Il resto invece è tutta plastica, varia, per cui difficilmente insomma come sacchetti ne abbiamo raccolti i sacchetti quelli neri quindi quelli grandi per capirci una quarantina di sacchetti abbiamo fatto e quindi insomma i rifiuti erano tanti, veramente tanti. Rimanendo sempre in tema ambientale sentiamo ora le parole della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri che ha parlato ai nostri microfoni del tema della crisi idrica. Sentiamola. La pioggia dei giorni scorsi non è servita all'entroterra ai fiumi così come non è servita nel contrastare la crisi idrica che da ormai troppo tempo è un tema di dibattito, discussione e preoccupazione per la nostra provincia e non solo. Proprio su ciò vertono le parole della consigliera regionale in quota Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri che chiede misure urgenti, decise e importanti accusando Acquaroli e la sua maggioranza di non aver fatto nulla per contrastare questo fenomeno durante il corso della legislatura guidata dal centro-destra. Purtroppo nonostante la pioggia che però si è battuta in maniera più consistente sulla costa e meno consistente nell'entroterra non si è risolta quella che è una crisi idrica che va di anno in anno ad aumentare ed è per questo motivo che da quando sono stata eletta ho avanzato delle proposte a livello di consiglio regionale proposte che sono state unite anche a quelle degli altri consiglieri di maggioranza e di opposizione e sono state votate all'unanimità come per esempio la richiesta della pulizia degli invasi la richiesta di un'analisi di ciò che potrebbe essere affidarsi ad una rete di laghi Ultimamente l'assessore Aguzzi sta parlando anche del potabilizzatore per le acque della diga di Mercatale e si parla già da tempo di questo grande invaso verso cui non siamo particolarmente favorevoli noi del Movimento 5 Stelle perché sarebbe dispendiosissimo, molto impattante dal punto di vista ambientale e soprattutto sarebbe pronto tra 10 e 15 anni quando noi abbiamo bisogno di soluzioni nell'immediato Quello che posso dire è che purtroppo tutte queste proposte non sono state abbastanza sviscerate nella commissione apposita che è la terza commissione se ne è parlato fin troppo poco all'interno del consiglio regionale e soprattutto non è stato fatto niente di tangibile tant'è che la mia sensazione è che finirà questa legislatura senza che si sia messo mano a nessuna delle soluzioni per risolvere la situazione se non soluzioni tamponi come invitare i sindaci a fare ordinanza per utilizzare poca acqua sono state emesse anche nelle ultime settimane proprio qui nella nostra provincia oppure ricorrono in maniera consistente al prilievo delle acque strategiche come quelle del Pozzo del Burano e di Sant'Anna che secondo noi sono soluzioni che sono state avversate dal centro-destra quando era l'opposizione ma cui ricorrono anche se dovrebbero essere solo emergenziali ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che ci arrivano appunto da un nostro telespettatore che raccontano lo stato in cui si trova il verde pubblico lungo via Mastro Giorgio vicino la piazzetta della creatività e la pescheria in pieno centro storico si vede infatti un'erba completamente incolta che andrebbe tagliata soprattutto per l'immagine della città essendo questo un punto molto strategico e anche noi abbiamo delle segnalazioni si tratta di alcuni eventi imperdibili nel nostro territorio a partire da quello con la band pesarese dei Nameless 71 che questa sera alle ore 21 sarà a Utopia per portare la loro musica pop rock per due ore di live con cui accompagnare tutti i presenti altro appuntamento da segnalare in agenda è quello del bel canto ritrovato in programma venerdì 30 agosto a Pesaro alle ore 21 presso Villa Imperiale con concerti di canto e pianoforte dove appunto i cantanti solisti saranno accompagnati da un pianoforte che per l'occasione farà le veci della grande orchestra sinfonica infine l'ultimo appuntamento che vi segnaliamo in programma sempre il 30 agosto alle ore 21 e 15 a Pesaro alla chiesa di San Giovanni per la 51esima edizione dell'incontro internazionale polifonico città di Fano che proseguirà fino a domenica 8 settembre un evento che richiama nel fanese circa 500 artisti tutti imperdibili e ricordiamo come sempre la possibilità di inviarci foto, video, messaggi di testo al nostro numero di whatsapp 370-366-7210 ed ora concludiamo la nostra edizione del lunedì del telegiornale parlando di sport oggi la VL infatti conclude il suo ritiro a Carpegna ultima giornata di allenamento nel comune che dà anche il nome alla squadra pesarese che da domani invece tornerà ad allenarsi nel Palamegabox di Campanara è stato un ultimo allenamento basato molto su pesi e tiro a canestro che ha evidenziato ancora una volta la grande disponibilità della squadra nel seguire le indicazioni di coach Sacripanti domani invece sarà un altro giorno di abbraccio con i tifosi visto che al Palamegabox l'allenamento delle ore 16 ci sarà a porte aperte siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma attenzione restate con noi perché tra pochissimo ci sarà un nuovo appuntamento con la natura della cultura in cui si parlerà della settimana della cultura che questa settimana è dedicata al comune di Montelabate e poi continuiamo a rivedere le puntate già realizzate dice Capo Obiettivo Salute in attesa della nuova edizione che partirà a settembre e quindi lo facciamo questa sera alle 21.20 con il nostro Antonio Astuti domani invece sono molto contenta di ritornare con voi in Rassegna Stampa quindi vi aspetto alle 7.20 chiaramente potete seguirci sul canale 80 ma anche sulla nostra diretta Facebook sulla nostra applicazione o in streaming sul nostro sito internet rossinitv.it grazie mille e buona serata